Buongiorno a tutti. Allora, 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 dopo le news arrivano le call news. Allora, la prima è una call news che è ancora abbastanza news, nel senso parleremo di un film che sta facendo un figlio d'arte che ha perso il papà da poco, ma eravamo in agosto quindi il papi stava bene, era ancora vivissimo. Poi avremo anche la news che parlerà di questa grave perdita per la televisione italiana e non solo, ma ne parleremo quando sarà il momento, quando arriverà il suo momento di parlarne. Probabilmente fine marzo, inizio aprile sicuramente, però io vado per ordine di notizia. Questo invece è il figlio che è un bravissimo, bravissimo regista e stava facendo in agosto, stava iniziando a preparare questo film che non è ancora uscito al cinema, perché sono andato a vedere se per caso, invece la data di uscita non è ancora disponibile, ma dovrebbe averlo forse finito e stanno preparandosi a farlo uscire. Parleremo di questo film, di questo regista che è un figlio di un personaggio importante della televisione che ahimè ci ha lasciato qua da poco. Poi parleremo di una misteriosa creatura microscopica che si pensava fosse una discendente o potesse essere imparentata tra virgolette con l'uomo, invece non c'entra nulla eccetera eccetera eccetera. E concluderemo con un film del 2011 che vi dico solo un attore che c'era all'interno di questo film Denzel Washington, penso che sia già più che sufficiente. Poi c'era l'attore che ha fatto Freddie Mercury e poi l'attore che fece Dallas Buyers Club. È un film del 2011, un thriller particolare in cui parleremo in generale del film, degli attori, di tante curiosità, ecco tante curiosità su questo film del 2011. Perché pare, 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 pare che sia stato un thriller che molti ma chi è stato, chi non è stato eccetera. Spoilererò, quindi vi avviso se non l'avete visto, attenzione. Allora comunque iniziamo a parlare di questo film che sta appunto, dovrebbe essere addirittura di arrivo anche se non c'è una data precisa di uscita. Il titolo è finalmente l'alba ed è il nuovo misterioso progetto di Saverio Costanzo, figlio del conduttore Maurizio, noto al grande pubblico per la regia della serie L'Amica Geniale e Intreatment. Attualmente privo di data d'uscita, tuttora privo di data d'uscita anche se la notizia dello scorso agosto, per agosto più o meno, per agosto 2022, il film inizia a mettere insieme i primi tasselli in vista dell'inizio delle riprese previsto per le prime settimane appunto di agosto barra settembre, in qualche località italiana non ancora specificata perché ricordo la notizia dello scorso agosto, una call news. E fra le poche notizie rilasciate in merito al film spicca l'aggiunta al cast di due star da libidine, ma che cosa dico da libidine? Da doppia libidine coi fiocchi, Lily James e soprattutto William Dafoe. Al momento dunque di Finalmente l'alba si conosce soltanto il cast. Lily James e William Dafoe si uniscono infatti alle già annunciate Rachel Sennot, lanciata dal suo versivo indie movie Shiva Baby, e nel cast di Bodice Bodice Bodice, e Rebecca Antonacci che ha partecipato sia a Don Matteo che a Il lato oscuro. La trama o la storia dei singoli personaggi non è stata invece ancora rivelata, ma magari nelle prossime call news salterà fuori o magari nelle news perché uscirà il film e avremo tempo e modo di parlarne perché cinematografo.it non si lascia sfuggere nulla. Questa è una notiziola di cinematografo.it come sempre. Probabilmente qualche dettaglio in più emergerà dal set che verrà allestito in Italia nelle settimane appunto che vi dicevo tra agosto e settembre dello scorso anno stesso sono state allestite. Saverio Costanzo, sentimentalmente legato all'attrice Alba Rohrbacher, spero di averla pronunciata giusta se no la signorina Alba mi picchia, ha debutato alla regia del lungometraggio con Privat, grande successo di critica e ha poi firmato la regia della solitudine numeri primi e di Angry Hearts, nel quale ha diretto la star hollywoodiana Adam Driver. Lily James, nota per i suoi ruoli in Downtown Abbey, Cenerentola e Mamma Mia, ci risiamo, è apparsa di recente nella serie Disney Plus Pam e Tommy di cui vi ho parlato in un video precedente, recitando negli strabordanti panni di Pamela Anderson che vi ho detto, il titolo era C'è tanta plastica o qualcosa di simile o è tutta plastica. L'ultimo progetto invece di William Dafoe è l'horror de Norman di Robert Eggers, rilasciato lo scorso aprile, quindi quasi un anno fa. Dafoe è anche nel cast del prossimo film di Yorgos Lantimos, Paul Finks, povere cose, al fianco di Emma Stone e Margaret Qualley e nella pellicola Gonzo Girl, tratta dall'omonimo romanzo, firmata da Patricia Arquette e in uscita, che probabilmente è già uscito perché se in uscita prossimamente eravamo in agosto è probabile che magari sia già uscita questo film qua, Gonzo Girl, va beh, non l'ho mai sentito, sinceramente non l'ho neanche visto nella lista dei film più visti della settimana su TV Sorriso, quindi magari deve ancora uscire. O magari in Italia non è uscito, l'hanno mandato in giro per il mondo ma non in Italia. Bene, dopo avervi parlato di cinema parliamo di scienze perché un team di ricercatori ha scoperto che questa misteriosa creatura microscopica da cui si pensava che gli esseri umani discendessero fa parte di un diverso albero genealogico. Il Saccortitus è una specie di microorganismo marino vissuto 540 milioni di anni fa, con una grande bocca circondata da spine e buchi che sono stati interpretati come pori per le branchie, una caratteristica primitiva del gruppo dei Deuterostoma, da cui sono emersi i nostri antenati profondi. Tuttavia un'ampia analisi di fossili di 500 milioni di anni fa ha dimostrato che i fori intorno alla bocca sono basi di spine che si sono staccate durante la conservazione dei fossili, rivelando infine l'affinità evolutiva del microfossile Saccortitus. Alcuni dei fossili sono così perfettamente conservati che sembrano quasi vivi. Dice Junwan Liu, professore di paleobiologia dell'Università Chang'an, Cian in Cina, Saccortitus, anzi Saccoritus, Saccoritus, non c'è la T, no Saccoritus, Saccoritus, chiedovenia, è Saccoritus, non Saccortitus ma Saccoritus, era una bestia curiosa, con una bocca ma senza ano e anelli di spine complesse intorno alla bocca. La vera storia degli antenati di Saccoritus risiede nelle microscopiche caratteristiche interne ed esterne di questo piccolo fossile. Prendendo centinaia di immagini a raggi, ad angolazioni leggermente diverse, con l'aiuto di potenti computer, è stato possibile ricostruire un modello digitale 3D dettagliato del fossile. La ricercatrice Emily Carlisle, della School of Heart Science dell'Università di Bristol, ha spiegato sue testuali parole. I fossili possono essere piuttosto difficili da interpretare e Saccuritus non fa eccezione. Abbiamo dovuto usare un sincrotrone, un tipo di acceleratore di particelle, come base per la nostra analisi dei fossili. Il sincrotrone fornisce raggi X molto intensi che possono essere utilizzati per scattare immagini dettagliate dei fossili. Abbiamo scattato centinaia di immagini a raggi X con angolazioni leggermente diverse, abbiamo usato un super computer per creare un modello digitale 3D dei fossili, che rivela le minuscole caratteristiche delle sue strutture interne ed esterne. I modelli digitali hanno mostrato che i pori intorno alla bocca erano chiusi da un altro strato del corpo che si estendeva attraverso, creando spine intorno alla bocca. Crediamo che questi avrebbero aiutato Saccuritus a catturare ed elaborare la sua preda. Suggerisce Huacquiao Zhang dell'Istituto di Geologia e Paleontologia di Nanchino. I ricercatori ritengono che Saccuritus sia in realtà un ec disozo, un gruppo che contiene artropodi e nebatodi. La mancanza di ano di Saccuritus è una caratteristica intrigante di questo minus microscopico e antico organismo. Sebbene la domanda che viene in mente sia la via alternativa dei rifiuti digestivi, fuori dalla bocca piuttosto indesideratamente, questa caratteristica è importante per una ragione fondamentale della biologia evolutiva. Il modo in cui l'ano è sorto e talvolta successivamente scomparso contribuisce alla comprensione di come si sono evoluti i piani corporei degli animali. Non conosciamo ancora la posizione precisa di Saccuritus all'interno dell'arbero della vita, ma potrebbe riflettere la condizione ancestrale di cui si sono evoluti tutti i membri di questo gruppo eterogeneo. Quindi vedremo se riusciranno con nuovi studio che cosa capire dal Saccuritus 500 milioni di anni fa, che cosa poi si è evoluto, come si è evoluto, che cosa è saltato fuori. Radia Soli, dopo avermi parlato del serino microscopico, il Saccuritus e non Saccortitus, ma Saccuritus, mi piaceva di più Saccortitus, però l'ho chiamato Saccuritus, andiamo a parlare di questo film con Denzel Washington, scusate avevo detto del 2011, no 2021, infatti mi sembrava strano. Colpa via a Chiedovenia, 2021, infatti dicevo, se c'è quest'attore qui che ha fatto Bohemian Rhapsody e ha vinto l'anno scorso, proprio per questa interpretazione del grande Freddie Mercury, è appena spuntato, non può essere nel 2011 il film, era venuto il dubbio, è del 2021, un film del 2021, con Denzel Washington, l'attore che ha, ma adesso ne parliamo. Il titolo è Fino all'ultimo indizio, ed è un thriller appunto del 2021, non del 2011 come erogneamente detto Chiedovenia, che vanta nel cast la presenza di tre premi Oscar, Denzel Washington, inutile che vi metto all'elenco dei film di Denzel Washington perché facciamo notte, Ramin Malek e Jared Leto, candidato ai Golden Globe e ai SAG per questo ruolo. Passato in Italia completamente in sordina, complice all'uscita direttamente in video noleggio a causa della pandemia da Covid-19, è divenuto il fenomeno dell'estate in seguito all'arrivo, dopo più di un anno dal debutto nelle sale statunitensi su Netflix. La pellicola però si conclude con un finale aperto e non si riesce a comprendere del tutto la reale identità dell'assassino, per questo lo sceneggiatore e regista John Lee Hancock ha deciso di rispondere personalmente alla domanda. Fino all'ultimo indizio, chi è dunque il vero assassino? Ringraziamo Cinematogra.it per la libidine, mentre invece per quanto riguarda il Saccoritus ringraziamo Scienze Notizie. Per comprendere l'ambiguità del finale è necessario ricapitolare la complessa trama di fino all'ultimo indizio. Un ex sceriffo, Joe Deacon, interpretato da Denzel Washington, viene coinvolto da un detective della Uncidi, Jim Baxter, interpretato da Remy Malek, nelle indagini su alcuni assassini simili ad un caso trattato in passato proprio da Deacon. I sospetti conducono ad Albert Sparma, un uomo particolarmente inquietante e decisamente strano. Per tutta la durata del film non vengono mai trovate delle prove concrete contro Sparma, ma Baxter è fermamente convinto della sua colpevolezza. Traccinato dallo stesso Sparma in un luogo nel quale sarebbero sepolte alcune vittime, Baxter, non trovando in realtà alcun cadavere, si convince di essere stato preso in giro e colpisce Albert con una pala uccidendolo. Sul luogo del crimine giunge poi Deacon che in sabbia l'ha caduto e si convince insieme a Baxter di aver fatto la cosa giusta. Il problema però è che lo spettatore non saprà mai se Sparma è il vero assassino, ha semplicemente giocato con la polizia a causa del suo carattere incredibilmente spavaldo. Il regista quindi ha cercato a modo suo di gettare luce sul mistero del finale, rivelando di averlo ideato in questo modo per sovvertire i canoni del genere poliziesco. Mi sono sempre piaciuti i drammi polizieschi e i thriller psicologici, ma all'epoca sentivo che molti film di quel genere non mi soddisfacevano. I primi due atti erano interessanti e pieni di indicazioni sbagliate ed indizi. Poi quando arrivavi al terzo atto avevi identificato il cattivo e poi il buono e il cattivo si sarebbero affrontati e poi ci sarebbe stato un momento in cui il buono avrebbe perso per poi vincere eroicamente. Ho sempre pensato che fosse meno interessante dei primi due atti. Volevo abbracciare il genere mentre cercavo di sovvertirlo e trovare un finale meno stereotipato, ma, si spera, altrettanto soddisfacente ed interessante. Un'affermazione ambigua seguita da un'affermazione ancora più ambigua, che affronta direttamente la questione della colpevolezza o di innocenza di Sparma. Quindi il regista ha proseguito. Onestamente, quando l'ho scritto, sono cercato di inserire tante cose che indicavano la sua colpa quante indicavano la sua indocenza. Penso che ci sia un numero uguale di prove per la sua colpevolezza o di innocenza nella sceneggiatura. Voglio dire, dice, devo lavorare domani, andiamo, che è un indizio che non succederà niente là fuori. Se lo avessi portato là fuori per cercare un cadavere, di certo non avrebbe lavorato il giorno dopo. O sta mentendo? Punto di domanda. Già nel letto, dal canto suo, ha dichiarato di aver deciso se Sparma sia colpevole o di innocente per poter dare una chiave di lettura al personaggio, ma non ha mai rivelato pubblicamente la sua sentenza. Indi per cui questo film qua, fino all'ultimo indizio, non sapremo mai se questo personaggio che ha fatto lo spavaldo, ha giocato con la polizia, ha fatto il qua qua qua, era colpevole o se era innocente. E soprattutto se il poliziotto ha commesso un omicidio o ha commesso un atto di giustizia, anche se non si potrebbe dire, perché comunque una persona deve essere giudicata da una giuria, ed eventualmente condannata tu non puoi fare il giudice e il carnefice nello stesso tempo, perché poi per di più non ne hai l'autorità. Quindi avrebbe dovuto, vabbè mi stai prendendo per il culo, vattene a fare in bip, continuerò a indagare e poi vedremo se becco che sei tu o meno. Ma qua i daveri non ci sono, quindi però sapete benissimo come si dice smettila di comportarti così, non sono paziente come Job, smettila di faresti passare. Spesso si dice questa persona qua farebbe arrabbiare anche un santo. Voi capite benissimo che sulla terra di santi ormai ce ne sono pochi per non dire nessuno e quindi quando qualcuno si mette a fare troppo il qua 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 o lo sgarzellino, come dicevo l'altro giorno, a furia di fare lo sgarzellino, lo sgarzellino, lo sgarzellino, poi si rischia di prendere gli schiaffettoni. Poi non puoi andare a piangere, metti in alto gli schiaffettoni, perché magari arrivano anche 100 persone a fare da, a dire ha fatto bene a tirargli gli schiaffettoni, perché se gli è meritati è una persona insopportabile che fa di tutto per dare fastidio alla gente e dopo uno, due, tre, quattro, cinque volte che uno gli dice smettila, 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 passa alle vie di fatto, perché è umano, è umano. Poi è logico, non bisogna mai esagerare, bisogna fare come buon brega, no? Non ho capito cosa hai detto, sei avvicinato, ho fatto lo spavaldo, mi ha tirato un cazzottone, ho sputato per terra, me lo so guardato, manco il sangue mi ha fatto uscire, gli ho tirato un ampugno, gli ho rotto l'insetto nasale, gli ho sventrato le smucose, è andato giù come Gesù Cristo e poi gli ho detto alzati e lì succede. Fortunatamente qua al lago ultimamente siamo tutti tranquilli, ne parlavamo stasera e poi vedere la partita tranquillamente anche in terriuve senza che succeda nulla di che anche se ci sono i soliti ahum ahum, però si ride, si scherza, non succede mai nulla di eclatante e se magari qualcuno diciamo va su, non si zittisce o ci si mette a ridere, perché c'è un personaggio tra, lo chiamiamo il viperetta perché assomiglia al presidente della Slamboria Ferrero, no? L'altra sera in Inter Juventus diciamo che ha sbroccato leggerissimamente dopo il gol della Juve fatto con la zampina, ha sbroccato, ma io che ha sbroccato alla fine del primo tempo, stava finendo il primo tempo, ha iniziato a inveire in una maniera esagerata e ci siamo rimasti tutti un po' così, vabbè, lasciamo perdere, era per stramatizzare qua questo film che, ragazzi miei, fino all'ultimo indizio non si sa se il poliziotto ha ucciso un assassino, ha ucciso un quacquara qua che voleva fare il grandeur e poi dopo è successo quello che non doveva succedere, vabbè, io vi saluto, vi ringrazio, adesso non ho ancora di video da fare, in più avevo già preparato il video per lo sci di una gara di sci di gennaio femminile, è lì pronta ma non ve la faccio stasera, ve la farò domani, adesso devo farvi il riepilogo delle gare di venerdì e sabato delle qualificazioni agli europei che vedrete dopo e poi vi devo fare le schedine del Gigione per le partite di oggi perché iniziano subito alle 3 quindi bando alle ciance, il Gigione non si ferma mai, tanto domani è domenica, anzi oggi è domenica, è già domenica sono a casa, fino a mercoledì credo sarò a casa, l'unica cosa che farò sarà uscire dal portone, entrare nel portone, giocare il lotto martedì e rientrare nel portone, vabbè, poi sabato si inizia il trabacco probabilmente, lunedì chiamerò il buongiorgio, sento quando ci vediamo, dobbiamo farci una chiacchierata veloce veloce da leccarsi le orecchie e metterci d'accordo su tutto, sulla stagione e basta, tanto con lui sono 5 minuti e si risolve tutto, non è assolutamente un problema. Ciao!